Buongiorno a tutti, possiamo iniziare la conferenza stampa. Inizia Censi Roma Radio. Mister, il Verona è una squadra ferita. Può essere la voglia di reazione la loro arma principale? Difatti la grande attenzione che dobbiamo mettere a questa gara si lega alla grande voglia di rivalza del Verona, però da parte nostra anche c'è grande voglia di vincere e di ricominciare questo cammino in campionato dopo la sconfitta con l'Inter. Giocheremo una partita con grande attenzione, però con la voglia di far gol, di far male agli avversari, questo sì. È ovvio che siamo una squadra potenzialmente superiore al Verona se mettiamo in campo determinate caratteristiche che sono quelle di essere aggressivi, determinati, attaccare maggiormente la profondità, cercare il gol a tutti i costi. Questo ci permetterebbe di poter avere il sopravvento solo sul Verona, solo con queste armi, con grande determinazione affrontare questa partita senza prenderla assolutamente, nell'ultimo dei miei pensieri, prenderla sotto gamba. Calicchia, Roma TV. Salve mister, ha parlato proprio adesso delle motivazioni che devono spingere la Roma a fare un'ottima prestazione contro il Verona, dal punto di vista del campo invece, in cosa deve migliorare la squadra rispetto alle ultime uscite? Nella tenuta non solo mentale ma anche fisica della partita, nella capacità di essere un pochino più bravi a giocare in verticale, spesso dico le stesse cose, ma ci vuole anche del tempo per ottenerla, solo che di tempo non ce n'è tanto, per quello chiederò sempre mie di sforzarsi un po' di più e ricercare quello che io gli chiedo. Con l'Atletico abbiamo fatto anche una buona percentuale di possesso palla, però abbiamo fatto una bassa percentuale di verticalità e questa è una cosa che noi dobbiamo tenere conto e dobbiamo migliorarla, per essere maggiormente incisivi e essere un pochino più bravi ad attaccare l'area avversaria. Angelo Mangiantes, che sport. Sì, mia curiosità è su Florenzi, sta lavorando ormai da tempo, è arrivato il suo momento domani dal primo minuto. Ti piace Florenzi? Molto. Lo ammetto. No, anche a me. Sì, sì, è arrivato il suo momento. Vi dico che giocherà dall'inizio Alessandro, ha fatto un percorso importante, poi il campo dirà la sua, però sono convinto che farà una grande prestazione perché lo vedo motivatissimo. Domani sarà il suo ritorno dal primo minuto. Grazie. L'altra curiosità invece è il livello di Atletico, visto che ha ripreso adesso da poco, di Schick, quindi se sarà convocato e come sta dopo l'infortunio. No, è stato convocato, ha avuto un piccolo risentimento che non gli ha permesso di fare alcuni allenamenti. ovviamente non ha nelle gambe determinati minuti, come non ce l'hanno alcuni giocatori miei che si allenano da tempo, figuriamoci lui che è rientrato adesso, però è un giocatore che a partita in corso può diventare molto utile, determinante. Zucchelli, Gazzetta dello Sporto. Eccomi, buongiorno. Io volevo chiederle un aggiornamento sulle condizioni di Karsdorp e se fisicamente il Sharawi invece è pronto per giocare dal primo minuto. Grazie. Il Sharawi è pronto per giocare dal primo minuto e Karsdorp ha avuto un affaticamento muscolare che stiamo valutando insieme ai dottori, per quello ha dovuto fermare un po' gli allenamenti e il suo percorso anche di ri-atletizzazione per entrare il prima possibile in squadra. E questo è un peccato ma ci auguriamo di poterlo riavere di nuovo in squadra al più presto, però in questo momento per qualche giorno sarà fermo. Pastore, il Romanista. Buonasera. In un'intervista rilasciata al nostro giornale, Nanggolan l'ha definita un allenatore di grande personalità, difendendola anche con un certo vigore. Che peso hanno queste parole in una fase come questa? Io credo che siamo a 270 minuti di partito ufficiali e stiamo creando dei polveroni insensati. Però detto questo, ognuno è libero di pensare, scrivere, dire quello che vuole, ma una cosa che vi posso dire è che io sono resiliente e sono abituato a tutto questo, perché non ho ottenuto mai niente attraverso determinate caratteristiche, per quello che è stato il mio percorso sia da calciatore che da allenatore. Sono parole che fanno solamente piacere, che danno forza e credito a un qualcosa a cui già credevo e non avevo dubbi. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno, avrà sentito le parole di Dzeko anche dopo la partita, con poi rettifica del giorno dopo. Volevo chiedere, al di là del discorso delle polemiche che non mi interessano sinceramente, come si fa a aiutare di più Dzeko a essere quello dello scorso anno? Come cosa deve fare la sua squadra? Cosa sta pensando di fare per aiutarlo? Grazie. A volte a caldo si dicono delle cose che non si dovrebbero dire, che a me sicuramente non sono piaciute, sono state chiarite, però io credo che Edin si debba mettere ancora più a disposizione della squadra, del collettivo. è normale che un attaccante quando non fa gol o quando magari a poche occasioni fa fatica, però ricordiamoci delle partite che abbiamo avuto, in cui una ha fatto gol, una abbiamo sofferto, che è stata quella di Bergamo, lo dimostra anche la partita dell'Everton di ieri. Quindi che valore ha avuto quel successo, per la condizione anche attuale di quella squadra lì. Deve solo capire Edin, come abbiamo già parlato, che quando ci sono delle partite come l'Atletico, in cui tutti hanno buttato all'aria una partita, secondo me fatta male, che invece per 45 minuti la squadra ha giocato alla pari contro una squadra che negli ultimi cinque anni ha fatto due semifinali, un quarto e due finali, che ha una conoscenza di quello che vuole l'anatore da sei anni, mentre lui doveva mettersi un pochino in quel momento lì più a disposizione della squadra. Quando un attaccante si mette a disposizione della squadra, gli torna poi tutto più facile e sono convinto che alla lunga lui tornerà al gol facilmente, avrà le sue occasioni, le sue chance e il suo sfogo è stato anche se per me in quel momento lì sbagliato, è un ragazzo che si è reso conto perché è anche una persona molto intelligente. Chiedo solo a lui di mettersi a disposizione della squadra, tutto il resto verrà di conseguenza. Poi per poterle aiutare le modifiche tattiche che forse mi vorrei chiedere tu. Il mister è una persona che vede, legge, cerca di capire che ha la capacità anche di cambiare quando deve, ma quando è il momento giusto e quando ritiene opportuno farlo, perché le scelte sono qua apposta per farle e ho le P per farle quando serve e quando lo richiedo io. Maggi, il tempo. Salve mister, io le volevo chiedere, lei è preoccupato del calo nel secondo tempo espresso dalla squadra durante le ultime partite, se è un problema fisico e se quanto manca per vedere i movimenti giusti del 4-3-3 suo, insomma dei movimenti dei giocatori dall'aspetto tattico soprattutto? Io rigiro una domanda e vi dico per 70 minuti con l'Inter, li avete visti i movimenti giusti? Forse, qualcosina si è visto, no? E quello che ci manca è un po' la continuità nel doverlo fare. Con l'Atletico per me abbiamo fatto molto bene fino agli ultimi venti metri, creando delle situazioni anche di pericolo. La differenza tra noi e loro è che quando loro poi arrivavano erano pericolosissimi. Ed è quello che è successo anche poi nel secondo tempo, paradossalmente è rientrata in campo una squadra che non riconoscevo, perché per 45 minuti è stata in un certo modo, nei primi venti del secondo tempo, potremmo prendere gol da un momento all'altro, obiettivamente. Eramo un po' in balia dell'avversario e questo mi ha portato a fare una scelta tattica differente. Io credo che se ne sia parlato anche un po' troppo poco della scelta poi di quello che fa bene di Francesco e di quello che fa male, no? E allora ritengo che nel modulare certe partite nel valutarle, non sempre la stessa partita e so benissimo che questa squadra deve ancora crescere fisicamente. Abbiamo avuto un ritardo nell'andare a fare un determinato tipo di lavoro. Vi ricordo che il giocatore più in forma in questo momento, perlomeno quello che ha fatto le prestazioni migliori fisiche, è un giocatore che è stato in ritiro con me da Pinzolo ed è Diego Perotti. L'avevo già detto la scorsa settimana e l'ha dimostrato nuovamente anche con l'Atletico. Per quello io sono fiducioso che pian piano tutti gli altri ritrovano la condizione fisica. Ho usato pian piano, purtroppo pian piano non basta, prima possibile. Però che se con l'Inter eravamo 3-0 o 2-0 dopo i primi 70 minuti, magari gli ultimi 20 minuti si potranno pure considerare le avversari. E vi dico un'altra cosa, se voi pensate di poter dominare, perché la Roma ogni partita che sia una squadra forte, una squadra piccola, 90 minuti di gara o essere al meglio di 90 minuti di gara con ogni squadra, secondo me è un calcio che non esiste. E' un calcio che riesce a fare solo qualche squadra al mondo. Perché i momenti di sofferenza ci saranno sempre, magari non come l'Inter prendere tre gol. Quella sarà la differenza un po' di potere. E' lì la crescita della squadra. Parisi. Buongiorno mister. Senta, prima ha parlato di resilienza. Io a tal proposito le volevo chiedere le parole di Pallotta che in un'intervista alla radio ufficiale del club ha detto ci sono alcuni settori dei media che stanno cercando di abbattere questa squadra e questo allenatore. Le chiedo se sente intorno a lei questo negativismo? Che lo possa sentire sarei un'ipocrita se dicessi il contrario. Però lo trovo alquanto prematuro e fa parte di questo mondo. Ma io essendo arrivato a Roma avendolo vissuto tanti anni, non mi meraviglio di niente. Dico solo che quello che è stato detto di falso del dopogara, che Pallotta è venuto a lamentarsi con me con i giocatori e con tutti i dirigenti, è una grandissima bugia, è una falsità messa in giro per sentito dire o per detto da amici. Potrei dire anche io tante cose di chi sta seduto qua per sentito dire e giudicarvi per quello che non siete. Ma io sono una persona corretta e mi reputo una persona per bene come qualcuno ha detto e sono felice di essere per bene e corretto nei confronti di tutti e porto avanti quel mio modo di essere però avendo il mio modo di fare e il mio carattere. E non vi preoccupate che non ho un bel carattere quando mi ci metto. Detto questo aggiungo che quello che è stato detto non è vero. Il Presidente è venuto a fine gara, ha fatto i complimenti, era arrabbiato per il rigore non dato, per quello che ha detto. Per quello abbiamo montato un qualcosa sul nulla. O su quello che ha detto Edin, che ha detto, magari facendo capire, magari interpretato in un certo modo, ma è giusto che poi possa essere, capisco che possa essere stato interpretato in quel modo lì, ci sta. per il resto non devo aggiungere altro. Aggiungere altro dico solo che il negativismo si c'è, ma io sono una persona che cerca di essere sempre positiva, cerco di ribaltarla poi con una cosa sola. Il lavoro è il campo che deve dare i risultati, devono darmi ragione, solo quello. Le risposte e le altre servono relativamente. Codumaccio, Redesport. Buon pomeriggio Mister. Lei stesso ha parlato di alcuni cali fisici anche negli ultimi minuti della partita, in particolar modo dopo il settantesimo. Vista anche la probabile tournée in Cina della prossima estate, secondo lei come si può coniugare, come si può fare oggi, nel suo concetto di calcio moderno, una giusta preparazione estiva? No, guarda, questo è come per crearmi un alibi, no? Io non me ne voglio creare gli alibi, il fatto delle tournée. Io credo che ogni grande squadra, i primi top 10, top 20 al mondo, fanno tutti le tournée, per quello non posso arrivare io a dire che non si fanno le tournée, tranne magari il Napoli che non l'ha fatta e ha lavorato in un certo modo e che sicuramente ti può dare dei vantaggi, non spostarti, fusoare e tutto il resto. Però bisogna capire e lavorare in un certo modo. Più difficile magari per un calciatore può essere assimilare un metodo di lavoro, che è quello mio, che può essere differente da quello di Spalletti o da quello di chi c'è stato prima. Però non è che posso venire qua e lavorare o scimmiotare il lavoro fisico, o se io cerco una squadra aggressiva corta non poter lavorare in determinati momenti. Nei carichi di lavoro ci sta anche che ci sia un'assimilazione di questo e i ragazzi in questo momento arrivano a un certo punto in cui cedono. Però non è solo il settantesimo, perché se andiamo a guardare la partita con l'Atletico, se dobbiamo parlare dell'aspetto fisico è dal 45esimo al settantesimo, perché poi la squadra ha ripreso, ha ritrovato fiducia in un nuovo sistema di gioco, ha riguadagnato anche campo e ha preso solo un'occasione da gol nel finale su un colpo di testa sul calcio d'angolo. Per quello non è dal settantesimo, se no si meccanizza un tempo massimo. Io credo che la squadra deve arrivare col tempo a raggiungere 90 minuti. Però voi vi basate su questo, su quale percentuale di partite? Quello intendo dire io, capito? È prematuro fare un'analisi a tre partite. Facciamola a sette, otto, dieci partite in cui si va a vedere che c'è sempre un calcio di una squadra in determinato momento della gara. Credo che sia un aiuto un pochino più generale. Se no, ogni momento andiamo a fare l'analisi che ci conviene, in base alle partite che vogliamo. Timpano, Teleradio Stere. Buon pomeriggio, mister. Le volevo chiedere, dal punto di vista filosofico, lei come intende il turnover, visto che la rosa a sua disposizione è molto ampia? E nello specifico, se nel percorso invece di un giocatore, intendo, di under, di ambientamento, incide la lingua, visto che ancora non l'abbiamo visto in campo? Ah, l'avete visto in campo, magari non dal primo minuto, però magari lo vedrete domani. Non lo so, questa è una scelta che devo fare, che sto valutando. È normale che la lingua e l'ambientamento, l'adattamento a un determinato tipo di lavoro, di campionato, è difficile. Però parliamo di un giocatore che ha delle qualità importanti, che è giovane, che a me piace, ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Poi il tempo, ci vuole un po' di tempo per poterle far venire fuori, ma magari anche da domani lo vedrete giocare dall'inizio. Per quello che riguarda il turnover ci vuole un po' un mix di tutto. Il cambiare tanto non fa bene, ma a volte può essere determinante e importante. Sicuramente io in questa gara cambierò qualcosa, come già detto gioca Florenzi, magari anche qualche altro giocatore. Per quello è opportuno farlo ed è anche inevitabile in questo momento della stagione. Per quanto riguarda la rosa ampia, per ora non c'è una grande rosa ampia, nel senso che nelle scelte che devo fare non ho giocatori ancora da dire tutti al massimo della condizione, però ugualmente dovrò fare delle scelte per dare un po' di linfa nuova a questa squadra, di interpretazione di differenti determinati ruoli a qualche altro giocatore. Al momento in cui c'è la possibilità lo farò sicuramente, lo farò nei modi giusti e nei ruoli che ritengo un pochino più dispendiosi anche rispetto ad altri. Io mi racgancio la sua risposta di prima. Quando si parla di ambiente spesso viene fuori la stampa ovviamente, perché insomma siamo coinvolti tutti. Però le volevo fare questo esempio. L'onorevole D'Alema ieri ha detto che la Roma sostanzialmente non ha gioco e che con questo tipo di squadra e con questo tipo di allenatore si lotterà per la salvezza. Volevo sapere che cosa ne pensa. Beh, che lui siccome è un grande esperto di vittorie quando mi servirà gli chiederò a lui la possibilità di darmi le condizioni giuste per poterlo fare. Ognuno è libero di esprimere quello che vuole, però bisogna anche conoscere le persone, le caratteristiche umane delle persone per poter dire determinate cose. Ribadisco dopo 270 minuti una partita persa, una pareggiata, una vinta. Mi sembra un po' prematuro. È come se io dicessi che tutto ciò che è stato fatto in passato dov'è, è tutto da buttare via. Sarei uno sciagurato. Però comunque chiederò consiglio se mi dovesse capitare. Magari lo farò. È una richiesta last minute. Facciamo l'ultimissimo. Per me anche dieci domande. Per me non è problema. Devo andare a fare sull'allenamento però vi rispondo tranquillamente a tutto. Uno al volo. Volevo chiederle dove farà giocare Florenza a questo punto. Perché è esterno alto, esterno basso. Quasi sicuramente basso legato anche al discorso di prima del turnover, anche dell'adattamento, anche del tipo di partita. Magari con l'Atletico era meno opportuno portare un giocatore non nelle condizioni ancora per il tempo di gara ottimale. In questa partita in cui mi servono giocatori, una partita anche d'attacco, perché non può essere diversamente. Un giocatore che abbia determinate caratteristiche come lui, come Bruno Perez, per dire migliorato tantissimo in alcuni aspetti della fase difensiva. Magari a volte si toglie anche qualcosa di offensivo in cui vorrei che rimanesse. Però lo faccio giocare basso inizialmente. Prego. Grazie. Grazie.